Cadute, incidenti, infortuni, crolli e vasto il repertorio di emergenze messe in campo dalle 17 squadre di Croce Rossa provenienti da tutta Italia e approdate a Somma Lombardo per le gare nazionali di primo soccorso. Un appuntamento giunto alla 29esima edizione, partecipato e osservato con interesse dalla cittadinanza. Non solo pratiche di soccorso, ma anche di assistenza ad ampio raggio e di intervento che alla componente fisica aggiunge quella emotiva e psicologica. Prezioso il supporto di attori e truccatori che hanno contribuito a rendere più realistica una serie di simulazioni misurate da attenti osservatori. Quindi abbiamo deciso di esercitarci giocando attraverso una gara, anche se poi in realtà non è solamente una gara, ma anche un momento formativo molto importante per i nostri volontari, che si esercitano soprattutto ad essere pronti ad intervenire in ogni situazione. Sul fronte della classifica le 29esime gare nazionali hanno visto trionfare la squadra del Lazio. Medaglia d'argento ai piemontesi, bronzo alla Toscana, ma al di là della competizione a vincere è stata la cultura del soccorso, con gli occhi puntati su chi ha bisogno e il cuore rivolto ai 30 operatori di Croce Rossa che, dall'inizio dell'anno, hanno perso la vita sul campo.